Per la ricorrenza della giornata mondiale dei diritti umani vorrei affermare che spesso questi diritti sono calpestati in tanti modi e su tanti livelli e non è vero che la mancanza dei diritti umani sia in una cosa collocata con il terzo mondo. I diritti variano secondo anche il potenziale democratico di un paese perché certi piccoli diritti mancano in paesi del terzo mondo, non possono mancare in paesi fermatari della Carta dei diritti, in paesi avanzati, in paesi ricchi. Ma spesso questi paesi ricchi che danno dell'incivile ai paesi poveri sono loro stessi emmanicati in situazioni imbarazzanti dove sostengono dettatori e dove per campare loro stessi fanno accordi illeciti con paesi in via di sviluppo. Il diritto umano è una questione molto, come direi, molto un pochino ambigua direi, ambigua, la parola giusta è ambigua, ma con l'ambiguità non si arriva da nessuna parte. Auguriamoci un mondo dove c'è un'umanità più sana e più coerente e più compatta. Auguriamoci un mondo dove c'è un'umanità più grande.